Dai che almeno siamo entrati, siamo entrati, questa è la seconda parte, dai la seconda parte Ed è adesso di cambiare skin Boh andiamo di aver soldato Anzi, anzi, invece di andare di aver soldato voglio andare col Woki e sparare bombe Sì, abbiamo soldato, questo qua abbiamo soldato, ok, dobbiamo darlo sto nesoli qua Ecco qua, cambio Sto facendo un po' atto delle cose Delle cose? Eh sì, perchè è così Bene, dove sei? Dove sei? Dove sei? C'è tutto a modi Ciao Lo voglio prendere dalla ritroguarda Vieto ci stanno sparando Anche davanti Ok, l'ho beccato Buono, ho aperto una strada Vieni qua Delta, usufruisci del mio Abbiamo iniziato a capire l'obiettivo Madonna, me l'ho aperto sto qua Uga Dai, aprite la porta C'è chi è? Bella Wow Mammamia Hai visto come l'ho liquefatto sto qua? Buono, andiamo Mi manda che cazzo No, affambrotter Che bello Che bello No, non bisogna di showbote Questo è il ragazzo, l'obiettivo finale Distruggalo e portare il船 Distrutto No, ma qua... Scusa la via Ah, tu sei deceduto Ok Io sono qua con due soldati AR Che ci stiamo aprendo la via Mi sa che finiremo male Aia, eccoci Aia Dai, sali Grazie Adesso Ogni tanto Adesso Adesso Ti vedo Ti vedo Stai sparando ma C'è chi è nato male L'ufficiale paresemente è una brutta copia, paresemente, di Bly, però dettagli. Sì, 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 perché hanno pensato che gli ufficializzano come Bly. Cosa sbagliare, perché non è vero quello che faccio più te. No, è vero per altri croni, ma non per Bly. Allora, in teoria, se volevano fare l'ufficiale lo dovevano fare lo rosso, perché c'era il capitano della 327, se te lo ricordi, era rosso. Guarda che sono un attimo preso con le bombe. Ok, buono, ce l'ho fatta. 327, sì, se ti ricordi c'è il capitano, quello rosso, è sotto ufficiale di Bly. Può essere, non mi ricordo. No, c'è, 327, capitano, comandante, ti ricordo, però. No, capitano, ero tenente, dopo te. Un superiore, tu. Madonna, mi è apparso un trovere, che c'è davanti. Sei morto, te, 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 sei sempre, ogni volta che siamo a quest'ultimo, fate tutti lanci. No, Grivurs! Non venire verso di me, non venire verso di me. No, non mi ha preso, ma mi ha preso lo stesso, che cazzata. L'onda d'urto della sua onda d'urto mi ha ucciso. Da me. Aspè. Devo cambiare personaggio. Oh, eccolo qua, lui. Ecco. Ah, eccolo qua. Commander Davies. Davies, sì. Ma lui è di un'altra legione. Eh, però, faccia, cioè, però comunque è visto con la 327. No. No, 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 lui era la versione scartata di Bly. Nell'universo espanso lui è il comandante su Orto Plutoni, a me pare. Ah, e però fa ridere che l'hanno riproposto mille volte e la fanno vedere insieme alla 327, vedi? Perché lui era il modello originale di Bly. Perché originalmente la 327 era rossa. Poi hanno deciso di farla gialla perché si sposava meglio su Feruska. Ah, eh, però so, nelle teste di... Vabbè. E quello perché mi dà un'occhiata a Davies agli stessi equipaggiamenti di Bly. Sì, no, quello l'avevo notato, però... Questa cosa qua, io penso che erano due personaggi distinti e separati. Ok, vedi che si imparano cose nuove, ragazzi? Sì, no, di fatto sono due personaggi perché poi lo hanno riproposto e hanno detto sia un altro clone, però originariamente la storia è che Bly era... Che Davies era il Bly originario. Ah, questo non lo sapevo, però comunque sì, è un altro clone. Questo poco massimo, però lo so di disgraziare. Quando fanno queste cose... Oh, ma riusciamo a penetrare dentro? Non vedo che... Detto così sembra che vogliamo metterlo nel cuore... Ah, vabbè, dicevamo... Ma non è mai male. Sì, però la battaglia. No, cioè, riusciamo a entrare in generatore, a far esplodere. Entrare, sì, sì. Non facciamo i cafoni volgari. Ciao, tutta poco. Hai passato un jet vacca dalla telecamera. Ma io... Andiamo qua da sotto. Vieni qua com'è. Come? Io non sono da Only on Air. Io non sono... Ok. Ah, no, qua è quando parlavamo di brutte connessioni. Madonna, troppa gente morta qua, vedo. Sono morta qui. Cazzo di bosche. Aiutami a uccidere bosche. Vabbè, ma c'è bosche, c'è Darth Maul e poi... Grievous, no? Mamma mia, che carino. Ciao. Mamma mia, quanti missili da polso che mi spara. Niente, non riusciamo a... Le loro difese sono troppo forti. Paolo, fammi spunare. Non buttarti nella... Guarda che pollo brutto che fai. Non gettare la tua vita in modo così stupido. Eh, hai gettato la tua vita in modo. La tua vita in modo così stupido. Questa è la tua vita in modo così stupido. Ahia, chi è che mi ha tagliato in due? C'è la battaglia qua e c'è poi l'hardmall Guarda, da quanto tempo che non uso il Jet Trooper classico, madonna Aspetta, proviamo, non c'è un'altra entrata qua, proviamo l'entrata numero due Sì, stai seguendo Grievous Niente, l'abbia ho perso C'era Bosk, c'erano tutti là Poi è vero che alla fine con la pistolina ha fatto un po' di danni a quella griglia No, con le Willy Ma è vero, faccio finta di Faccio finta, eh Siedertemi qua Secondo me Willy sta facendo la recita Sì, perché sennò dopo lo mena e fa male Dopo si alza tipo e mena tutti quanti E comincia a dire Ok ragazzi, adesso basta Hanno creduto che ci siamo al Racer Adesso distruggiamo tutto Tiro tipo un ceffone Altro le decommando Gli fa portire via la testa Oddio Oddio, ho trovato Grievous subito dietro l'angolo Oddio, non l'hai visto C'era Grievous, è proprio lì Ho girato l'angolo e c'era anche lui che mi fa l'attacco con lo stupro illegale Ahia, ma tu sei sempre il jet trooper verde che ogni volta gironzo Ma chi è verde? Sono fase 1, per quanto dire è vero Ah, sì, verde in quello più Ah, verde nel senso sergente Sì, 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 non dire è vero Sei l'unico, è fase 1 verde che è peto Vabbè, fai la fase 1 generico Sei l'unico che lo usa, no? Potevano fare però qualche altro Bravo, bravo Vieni con me Delta Vediamo di fare i cosi I volatili della Repubblica C'è un problema, mi sono bloccato Ok No, ma solo io posso prendere il palo Il palo Sono tre getti Ma perché hai conteso? Sono tre getti Troppe Vabbè, vabbè, sparano là dietro Sono tutti dietro, tutti là sono Allora, come sporo, non so male No, 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 non farmi volare sopra il fuoco, mannaggia No, il comando Il comando non mi ha ucciso con la spada Ma mi ha fatto scivolare all'indietro E che sono caduto giù No, però mi sto, ci sto prendendo gusto Più che altro, sai perché Delta? Perché ho il pesante Che ormai l'ho usato allo subvenimento E quindi io uso l'assalto O uso l'ufficiale O uso, cioè no, per non usare sempre le robe Allora Io il pesante ho 264 L'ufficiale 202 Lo specialista è 119 L'assalto 163 81 il soldato jet 151 il commando combattente E l'arco 86 Cioè praticamente ho cercato di livellare un po' questi Mamma mia Oh, il rompello l'ho ammazzato su super Uno al B Sto riferendo il B Però adesso mi lancio alla spada Eh, non abbiamo tanti punti Sì, siamo un po' nei suoi vantaggi Dove fanno dipendere le posizioni Cazzo, sei andato così lontano Solo io non pensavo che c'è un jet troupe Oh Dio L'ho visto un jet troupe morire male No, no, ma perché a me Oddio, sono vivo Ma ero vivo Sì, subito Sono vivo, sono vivo Sì, è più bene come i cartoni animati Sto bene Boom Sto ancora bene Oddio, che basta Sto cadendo Niente, mi sa che sta qua la pigliamo in quel posto Perché non Ma capri, aveva cominciato bene Solo che poi non La squadra non ha spinto abbastanza Quando Quando eravamo al posto di comando Quello buono Quando eravamo dentro la nave Aveva venuto Eh no E non Non ce la si fa Perché non sono in grado di prendere il C Cioè, si focalizzano troppo sul C Uh, guarda quanti dreads facciamo là No, no Perché ha volato così tanto Porca puttana Ha deciso di volare a me Il controllo del jetpack mi è partito Se lo riuscissimo a prendere l'E Delta ce la fai venire con me Andiamo a l'E Guarda, lo stanno già prendendo Delta Al C No, no, no Lei, lei No, quello è il generale Grievous, vero minchia Basta Grievous, l'hai staccato Tu hai tenuto in testo Grievous E poi abbiamo pure Darth Maul Ho notato Ok, abbiamo ucciso Grievous Se hai due jettrooper Det 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 Via via, rispingete questi droidi Ecco guarda, se trovi i posti di comando abbiamo anche una possibilità di farcela Madonna che casino No perché continuiamo ad avere un Grievous rompiballe Cioè ne ammattiamo uno e ne appartiamo un altro Boh guarda come l'ha ammazzato male Poi gli ho sparato il missile addosso No 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 L'ho d'intro stasso Dai raga ma perchè non si vedevo di tenere questo? Madonna che sparo brutto! Ah ma ha seguito proprio il comandolo come l'ha ammazzato il comandolo nostro Ah ha sopra e sopra vissuto Ah guarda che Bosch se ne vai a ritirare Bravo bravo scappa Lucerto la maledetta Oh guarda che la stiamo recuperando Dobbiamo solo tenere le posizioni Ah ma che stanchezza E' abbastanza impegnativa eh Beh ma è normale Guarda lo Bosch che si sta ritirando tipo no basta Comunque mi dispiace che hai fatto i lunedì sera ma mi aveva invitato prima il mio cugino Ma mi dispiace aveva Va bene non preoccuparti che tanto ho parlato con Rex mi ha confermato Va bene te l'ho detto pure in anticeo perchè col cavolo che me lo dico all'ultima Se ero all'ultima allora ero bastante è un po' strano Oh dobbiamo ammazzare Bosch? Ma non è faccia perchè abbiamo dei super tori da battaglia jet Che non scherzano Perfetto Lei la stiamo tenendo eh Guarda Lo sai che solo ora sto notando Che è successo? Non è stata veramente un'idea geniale quella di tenere Perchè loro sono fissati col tenere il D e il B Hai capito? Se noi non li attacchiamo la ma li aggiriamo Loro sono fregati Perchè li difendiamo molto bene queste posizioni qua Eh ho capito I droidi sono molto più forti dei cloni in campo aperto Per quanto riguarda il super droidi e tutto quanto Però negli spazi piccolini se i cloni se li aggistiscono bene riescono a No ma fuori Cosa connessione? Ma no ma dai Sono offline Ma che è successo? No Però mi dice che c'è ancora in gruppo La storia dei cloni in campo aperto il comando è il più bello Si adesso mi dice che si E' molto chiaro che devo uscire dall'origine ma dopo che casino Si vedeva proprio che diceva non basta non ce la lasci non è possibile Eh ma perchè ma avendo ospiti Ma si connette Fatti è una connessione bassissima Estremamente bassa Che bello però che è far scappare Grievous Dai vediamo qua No mi ha ucciso Grievous Mannaggia Che pale Ci hanno preso il coso lì Sono riusciti a infiltrare su bordo della nave No quindi hanno fatto 90 punti 100 punti E perchè stavamo tenendo bene le posizioni Ma poi di colpo hanno Cioè Diciamo che io posso sorvegliare solo una postazione E la nostra stava tenendo le altre due no E hanno preso tutto E appunto Ciao Succa Vabbè Darth Maul Grievous Mi è piaciuto Sto rientrando Vediamo se riesco a partecipare Vediamo se riesco a partecipare Adesso ti mette tra i droidi No spero di no Lo metto unisco con te Magari so fortunato Sperando che ti legge però Partecipa Una posizione Che noia Sì ma tanto adesso quitteranno in massa Perchè veramente Non li vedo Non la vedo durare sta partita Muoiono tutti male in pratica Sì 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 assolutamente Ma proprio senza se Allora padre Mi Mi Imposto Le nuove skin Dei soldati Beh bravo Intanto Ma forniti Non ci sento I N Ma eg Ma Ma ecco qua allora com'è la situazione? eh li stiamo al momento non stanno riuscendo a penetrare però cazzo dobbiamo tenerla per 6 minuti la posizione non credo che riusciremo a mantenerla non lotto troppo disperata e qua si farebbe comodo un ufficiale col comando di carica eh ma non è che la gente si fa eh, si collega cioè decide di fare cose buone non è buona dico speriamo che in questa porta non ci sia nessun droide vedo due c'è problema della battaglia che loro hanno preso tutte le classi comunque la difesa è uno lo stanno prendendo credo che io la registrazione stop che tanto è durata abbastanza il gameplay quindi raga io poi vi saluto credo che si dividerà in due parti questa supremazia a tema repubblica e credo che la stiamo perdendo com'è messa la situazione? eh diciamo compromessa ecco ok allora la perderemo bene raga non è delle più rose ah? non è delle più rose poi c'è un droide albino un droide albino eh va bene giusto che porta a scarogna peggioriamo la situazione va bene raga io poi vi saluto qui da Tentotto al prossimo video passo e chiudo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti